Il compositore argentino Ariel Ramirez ascoltiamo una parte della Missa Criolla, un'opera sacra interamente composta sui ritmi e sugli idiomi della pampa argentina e delle foreste del suo lento. Seguirà l'Ave Maria di Caccini, o più correttamente l'Ave Maria di Bavido, che si tratta di una composizione abbastanza recente di questo musicista russo, che però pubblicò come opera di anonimo e che successivamente è stata per errore attribuita a Giulio Caccini, compositore italiano al periodo che nasce in Italia. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!